con le preferenze. Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa al Circo Massimo, l'alto livello di professionalità dei volontari con simulazioni e corsi per l'emergenza. Simona Burattini. Un vero e proprio campo di emergenza, quello del Circo Massimo, che in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ospita le attività della più grande organizzazione di soccorso, un campo base costruito nel cuore della capitale, un esempio di assistenza sanitaria e sociale a 360 gradi, come quello che ha prestato i primi soccorsi ai terremotati dell'Aquila. Tende per gli spollati, una cucina che produce migliaia di pasti al giorno e un ospedale da campo completo. Fino a domani sarà possibile ammirare l'azione degli operatori nei salvataggi in acqua, la ricerca di persone con i cani e la simulazione di situazioni di emergenza, come gli incidenti stradali. Una mostra fotografica testimonia l'impegno della Croce Rossa nelle grandi catastrofi, come il terremoto di Haiti. Non solo i visitatori potranno ammirare mezzi storici e ambulanze che hanno operato nella guerra in Iraq. Gli operatori della Croce Rossa offriranno al pubblico dimostrazioni e piccoli corsi di primo soccorso per adulti e bambini.